Non sono un profeta, sono una persona assolutamente normale che è contento di quello che sta facendo. Io sto andando adesso in Senato, abbiamo le nostre idee per limitare i danni, ad esempio ci sono i 15.000 posti di lavoro di Ilva a rischio e gli 11.000 posti di lavoro di Alitalia a rischio, ma questo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi. Secondo me prima si va a votare meglio è, perché che PD e 5 Stelle non si sopportino mi sembra evidente che Di Maio ce l'abbia con Conte mi sembra evidente, che Renzi ce l'abbia con Zingaretti mi sembra evidente, ma non mi sembra un governo che possa fare molto per gli italiani in questo momento.